E quindi la riaffermazione della presenza dello Stato. Io credo che in un momento di difficoltà e di grande crisi come questa, crisi sanitaria, economica, sociale, lo Stato deve essere visibile anche per evitare l'infiltrazione criminale. E quindi credo che il compito e il dovere di questo Governo sia quello con grande senso di responsabilità di portare il Paese fuori da questa crisi il più rapido tempo possibile, sapendo che c'è un diritto alla salute che va evidentemente tutelato e garantito, ma esiste anche un diritto al lavoro, un diritto alla vita. E credo che questo Governo si stia muovendo con grande senso di responsabilità.